Ora si è cominciato a fare sul serio, a patto che fino ad oggi si fosse scherzato. La stagione del rotellismo nazionale è entrata nel vivo con la disputa di gara 1 dei quarti di finale della Pool Scudetto. Si cerca l'erede del Forte dei Marmi, che potrebbe essere, perché no, la stessa formazione rosso-blu. Ed in effetti i campioni d'Italia hanno iniziato col piede giusto, andando a vincere fuori casa per 4-3 sulla pista del tenace Maedomo-Pieve 0-10. Quanta fatica però per la squadra di Coce Valverde, che ha chiuso il primo tempo addirittura in svantaggio, 1-2. Poi, nella ripresa, il maggior tasso tecnico del Forte ha fatto la classica differenza, anche se Pedro Giri e compagni non sono parsi ancora brillantissimi. Decisivo, un grande e intramontabile Alberto Orlandi, autore di una tripletta, da segnalare l'espulsione di Davide Mutaran. Stesso punteggio, ma con dinamiche e andamento diversi per il Cigi Civiareggio, che è andato ad espugnare il capannino di Follonica, in quella che fino a pochi anni fa era una sfida che valeva lo scudetto. I bianconeri di Bertolucci hanno vinto 4-3 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 2-1, salvo complicarsi la vita nella ripresa. Follonica recupera fino al 3-3, si rende necessario un supplementare, poiché deve esserci un vincitore. E in tale frangente, la classe immensa di Mirko Bertolucci fa la differenza, con un rigore tanto, ma tantissimo pesante. Forte De Marmi e Viareggio si portano così in vantaggio 1-0 nella serie, e giovedì sera, col vantaggio ulteriore del fattore campo, potrebbero già staccare il biglietto per la semifinale. Negli altri confronti dei quarti da notare la vittoria intraserta del Breganza a Bassano e quella sorpresa, ma non più di tanto del Trissino, su un Valdagno piuttosto dimesso.